Ciao ragazzi, bentornati! Dedichiamo questa video-lezione alla dinastia dei Flavi, a cui appartengono tre imperatori che reggono l'impero dal 69 al 96 d.C., Vespasiano dal 69 al 79, Tito dal 79 all'81 e Domiziano dall'81 al 96. La prima cosa da ricordare è che durante l'anno successivo alla morte di Nerone, quindi nel biennio 68-69, si succedono rapidamente addirittura quattro imperatori, Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano. Questa successione così rapida è dovuto al fatto che ciascuno di questi quattro imperatori ha un sostegno estremamente limitato e parziale, che, fatta eccezione per Vespasiano, non riesce mai a tradursi in un consenso assoluto e quindi in un impero stabile. Galba, il primo, era stato legato imperiale in Spagna ed era stato sostenuto dal Senato per spodestare Nerone. Quindi Galba è il rappresentante dell'aristocrazia senatoria, ma ben presto diventa sgradito ai pretoriani, poiché si rifiuta di assegnare loro un donativo. I pretoriani, lo ricordiamo, sono la guardia privata dell'imperatore, un po' il braccio armato del governo imperiale. I pretoriani quindi lo assassinano dopo pochi mesi e nominano al suo posto Otone, un generale che ha anche il sostegno, lo vedete qui, delle legioni del Danubio, delle legioni dell'Oriente e di quelle dell'Africa. Tuttavia contro Otone ben presto si sollevano altre legioni stanziate in altre zone dell'impero che acclamano un altro generale, Vitellio. Stavolta Vitellio è sostenuto dalle legioni, lo vedete, della Spagna, della Gallia e della Britannia. Forte di questo consenso, Vitellio muove guerra contro Otone, scende in Italia nell'aprile del 69 e sconfigge le legioni di Otone. Ma pochi mesi dopo le legioni della Giudea e della Siria acclamano a loro volta un altro imperatore, il generale Tito Flavio Vespasiano, che in quel momento stava appunto reprimendo una rivolta in Giudea. Le legioni di Vespasiano a loro volta sconfiggono quelle di Vitellio e Vespasiano diventa imperatore. Dunque Vespasiano era nato nei pressi di Rieti e proveniva da una famiglia di modesta estrazione equestre, quindi non è un esponente dell'aristocrazia senatoria come Galba e non è neanche un esponente di un'antica famiglia romana come potevano essere i componenti della dinastia Giulio-Claudia. Quindi innanzitutto Vespasiano, una volta diventato imperatore, per evitare di fare la fine dei suoi predecessori, ha bisogno di consolidare per legge il suo potere e riesce a far approvare dal Senato e dai comizi un vero e proprio decreto che si chiama l'ex de imperio Vespasiani. Cosa diceva questa lex? Beh, sembra paradossale, ma fondamentalmente diceva, Vespasiano diceva con questa legge, io sono l'imperatore. Che significa? Che con questa legge Vespasiano ereditava in blocco tutti i poteri appartenuti ai suoi predecessori, ma lo, diciamo, lo metteva per iscritto. Sanciva per iscritto per legge che esiste un imperatore che ha tutti questi poteri. C'era bisogno di mettere per iscritto una cosa del genere perché, appunto, Vespasiano non era romano, ma era italico e non era neanche un aristocratico, non apparteneva a una famiglia influente come quella Giulio-Claudia e quindi aveva bisogno che il suo potere fosse riconosciuto per legge, fosse messo per iscritto, diventasse una cosa ufficiale. Dunque, con questa lex de imperio Vespasiani, che significa proprio legge sul potere di Vespasiano, assistiamo a un consolidamento, un'ufficializzazione dell'istituzione imperiale, cosa che i predecessori di Vespasiano non avevano sentito il bisogno di fare. Augusto, ovviamente, non ne aveva avuto bisogno, Tiberio già ne aveva avuto un po' più bisogno perché non aveva fatto nulla, diciamo, per meritarsi le cariche di Augusto, ma fondamentalmente il fatto di appartenere alla Gens Iulia, alla Gens Claudia, già lo rendeva degno di ricoprire il ruolo di Princeps. Quindi, con questa legge, il Princeps, cioè quello che con Augusto era il primo dei senatori, qui diventa veramente un imperatore, cioè un sovrano fondamentalmente a tutti gli effetti, ed è qui che davvero il principato si trasforma davvero in un impero. Una volta sancito per legge il proprio potere, Vespasiano deve subito occuparsi di, diciamo, rimettere a posto l'impero dopo questi anni di scontri e fondamentalmente di guerre civili. Quindi, innanzitutto, Vespasiano riassesta, rimette in ordine i conti, riassesta le casse dello Stato, le finanze dell'impero, in due modi. Da una parte rinunciando personalmente a lussi e fasti eccessivi, quindi rinunciando agli sprechi della corte imperiale, e dall'altra parte imponendo nuove tasse, è inevitabile. E la più famosa di queste tasse, forse la conoscerete già, è imposta sull'uso delle latrine, sull'uso dei bagni pubblici, molto in uso appunto a Roma, e questi bagni, tra l'altro, prenderanno proprio il nome di Vespasiani, in onore, diciamo, di questa nuova tassa. Oltre al lato economico, Vespasiano si occupa anche di mettere in piedi un imponente impianto di opere pubbliche. E il più importante di questi lavori è sicuramente la costruzione dell'Anfiteatro Flavio, meglio noto come Colosseo, ovviamente. Il Colosseo si chiamerà in seguito Colosseo perché sorgeva vicino alla statua colossale dell'imperatore Nerone che si trovava nel comprensorio della Domus Aurea, ma inizialmente il nome originale è proprio in onore della dinastia dei Flavi, quindi l'Anfiteatro Flavio. I lavori iniziano intorno al 70 e verranno ultimati più o meno alla morte di Vespasiano, ma il Colosseo, l'Anfiteatro Flavio, verrà inaugurato sotto il Principato di Tito nell'80 dopo Cristo. Abbiamo a riguardo anche la testimonianza di uno dei più importanti poeti di quest'epoca, ovvero Marziale, che scrive degli epigrammi, quindi dei piccoli componimenti che celebrano appunto i giochi inaugurali di questo anfiteatro. Oltre alla costruzione dell'Anfiteatro Flavio, Vespasiano fa ricostruire quasi interamente la zona abitativa del Campidoglio che aveva subito ingenti danni prima già con l'incendio di Roma, opera di Nerone, ma anche in seguito a causa degli scontri fra le legioni di Otone e di Vitellio. Per quello che riguarda la politica, diciamo, di confine o la politica estera, Vespasiano opera nuove conquiste annettendo all'impero i cosiddetti Agri Decumates, ovvero una porzione di territorio che si trova in Germania sulle rive del Reno e dunque in una zona parecchio pericolosa e molto instabile dell'impero. Quindi Vespasiano solidifica, fortifica questa zona conquistando questa porzione di terreno germanico, gli Agri Decumates. Contemporaneamente, siccome la Giudea è ancora una zona molto calda e molto irrequieta dell'impero, Vespasiano ordina una vera e propria repressione delle rivolte in Giudea, che avvengono questa repressione molto energica e anzi decisamente violenta, avviene fra il 66 e il 70 d.C. e viene portata avanti personalmente dal figlio di Vespasiano, ovvero Tito, che diventerà il futuro imperatore. Quando Vespasiano muore nel 79, tra l'altro uno dei pochi imperatori a morire, diciamo non assassinato, stabilisce che il suo successore sarà suo figlio Tito. Quindi con Vespasiano l'impero assume un carattere ereditario, non c'è più un'adozione di un successore che comunque apparteneva alla stessa famiglia come avveniva per la dinastia Giulio-Claudia, ma stavolta c'è una successione in linea diretta, di padre in figlio. Nel 79, dunque, l'impero di Vespasiano viene ereditato dal figlio Tito, che governerà solo due anni, come vedete, dal 79 all'81, perché nell'81 si ammalerà gravemente e morirà. Ma anche in questi due anni ci sono alcuni avvenimenti degni di nota. Intanto, come abbiamo detto prima, l'inaugurazione del Colosseo. Ma ancora prima, il 24 agosto del 79, era avvenuta una catastrofe naturale destinata a rimanere celebre, ovvero l'eruzione, come saprete, del vulcano Vesuvio, che distrugge completamente le città di Pompei, Ercolano e Stabbia, o meglio, più che distruggerle, le sommerge completamente, perché come sappiamo il sito archeologico di Pompei si è conservato così bene anche grazie all'azione della lava solidificata, ma ovviamente ci furono tantissime vittime. Fu un evento che colpì già i contemporanei e Tito organizzò la macchina dei soccorsi, per così dire, perché si curò di portare aiuti, di far portare aiuti alle popolazioni colpite. Tra l'altro anche in questo caso gli scrittori latini ci vengono in aiuto perché l'eruzione del Vesuvio venne documentata in diretta, per così dire, dallo scrittore, scienziato e naturalista Plinio il Vecchio. Oltre a ciò, appunto abbiamo detto l'inaugurazione del Colosseo, ma in generale il pur breve principato di Tito ci viene raccontato dagli storici come due anni d'oro. Tito fu un ottimo imperatore a quanto pare soprattutto perché si dimostrò molto generoso e clemente. Infatti sotto il suo principato non si verificò nessuna condanna a morte, che non è una cosa da sottovalutare. E proprio per questo merito Tito venne soprannominato fin da subito Delicia Generis Umani, ovvero la delizia del genere umano, un imperatore quindi lodato per la sua grande umanità e bontà d'animo. Certo, diciamo, forse è un appellativo un po' esagerato perché, come abbiamo detto prima, Tito aveva portato avanti la spietata repressione della rivolta in Giudea, in cui addirittura oltre 5.000 ebrei vennero crocifissi a Gerusalemme e l'ordine venne dato proprio da Tito, ma all'epoca Tito non era ancora imperatore. Fatto sta che dopo la sua morte a Tito viene riservata la cosiddetta apoteosi, ovvero praticamente la divinizzazione, un po' come oggi i benemeriti della chiesa cristiana vengono fatti beati e poi santi, un procedimento molto simile. Quindi Tito ebbe vita breve come imperatore, ma venne ricordato per la sua bontà e per la sua grande generosità. Una volta morto Tito, l'impero passa al fratello Domiziano, che governerà fino al 96 d.C., anno della sua morte. Domiziano ci è stato tramandato dalle fonti antiche come un imperatore tirannico e autoritario, ma dobbiamo prendere queste fonti come al solito un po' con le dovute cautele. Abbiamo già visto nella lezione precedente che alcuni storici filorepubblicani, quindi favorevoli alla Repubblica, come Tacito o Svetonio, avevano ovviamente tutto l'interesse nel dipingere degli imperatori come dei tiranni sanguinari, e anche Domiziano è stato appunto ritratto in questo modo. Ma gli storici moderni invece ammettono che Domiziano, dal punto di vista della gestione interna e della gestione dei confini di questo impero ormai smisurato, fu un ottimo imperatore, molto capace, molto presente a se stesso e consapevole dei problemi e delle soluzioni da trovare. Partiamo proprio dalla gestione del confine, perché in questo impero ormai molto grande c'erano molte zone di confine del Limes che erano piuttosto incerte e pericolose. Prima fra tutti la frontiera con la Germania, dove Vespasiano, come abbiamo detto, aveva conquistato una porzione di terreno, gli agri decumates, sulla riva del Reno. Domiziano prende questi agri decumates e li divide in appezzamenti di terreno, in piccoli lotti, che assegna ai suoi soldati, assegna ai soldati. Di questo modo il confine presieduto da questi soldati, che sono stabili lì, viene appunto rafforzato e viene meglio sorvegliato. Per quello che riguarda sempre i confini, Domiziano portò a termine, per così dire, la conquista della Britannia, che ricorderete era stata operata già da Claudio. Ecco, Claudio aveva fatto il grosso del lavoro, per così dire, Domiziano consolida definitivamente i domini in Britannia, soprattutto grazie all'operato di un suo valente generale, di nome Agricola, e quindi sotto Domiziano la Britannia si può dire pacificata e romanizzata. Verso la fine degli anni Ottanta, tuttavia, la politica di Domiziano prende una svolta molto più autoritaria e assolutistica. Innanzitutto Domiziano vuole avere il controllo assoluto effettivamente dell'impero e di tutta la complessa rete amministrativa che costituiva appunto l'ossatura dei domini romani. Quindi innanzitutto esige, impone, di farsi chiamare Dominus et Deus. Quindi all'appellativo Dominus, cioè signore, che già era attribuito agli imperatori prima di lui, lui fa aggiungere quello di Deus, Dio, e quindi rende implicito il fatto che l'imperatore vada adorato e considerato un Dio a tutti gli effetti. Di conseguenza tutte le minoranze, possiamo dire, le culture che si rifiutavano di riconoscere l'imperatore come Dio vengono perseguitate ferocemente e ovviamente in cima alla lista ci sono gli ebrei e i cristiani, che abbiamo visto già prima di Domiziano costituivano un po' una spina nel fianco nell'impero e le cui rivolte erano state gestite da Vespasiano e anche da Tito. Quindi oltre a questo appellativo di Deus, Domiziano cerca in ogni modo di controllare in maniera capillare, quindi in maniera estremamente serrata e precisa, l'operato dei magistrati sparsi in tutte le province dell'impero. E, dicevamo, la sua politica diventa particolarmente autoritaria quando Domiziano comincia a ordinare una spietata repressione di tutti i suoi oppositori e di tutti quegli esponenti delle classi dirigenti, quindi i senatori e i cavalieri, che si opponevano a lui o che anche solo erano sospettati di congiurare contro di lui. Questa politica decisamente tirannica, almeno nell'ultima parte del suo principato, assomiglia molto alla deriva che aveva preso la politica di Nerone, quello che era stato il principato di Caligola e, per certi versi, anche l'ultima parte del principato di Tiberio. Quindi, di nuovo, l'impero romano si trova ad avere a che fare con un princeps che diventa sempre più simile a un re, o peggio, a un tiranno. Per questo motivo, alla fine, Domiziano, nel 1996, cadrà vittima di una congiura e a lui viene riservato un trattamento diametralmente opposto a quello che era stato il trattamento riservato a Tito, ovvero la Damnazio Memorie. La Damnazio Memorie è un procedimento storico per il quale il nome e la memoria, appunto, di quell'imperatore viene completamente cancellata. Vengono cancellate i suoi ritratti, vengono distrutte le sue statue, viene tolto il suo nome dalle iscrizioni, quindi letteralmente una condanna della memoria, esattamente il contrario dell'apoteosi, quindi invece della divinizazione, che era stata, per esempio, riservata a Tito. Condomiziano, quindi nel 1996, termina questa seconda grande dinastia che Roma, che l'impero romano conosce, ovvero la dinastia dei Flavi. Da questo momento in poi, il criterio di successione degli imperatori sarà molto diverso, ovvero a partire dall'imperatore successivo, Nerva, l'imperatore sceglierà il suo successore non in base a dei legami di parentela, ma sceglierà quello che lui semplicemente reputa il migliore, e non importa che sia un suo parente oppure no. E questo criterio, soprattutto all'inizio, si rivelerà vincente perché Nerva, Traiano e Adriano, che sono i tre imperatori che succedono a Domiziano, saranno tre fra i migliori imperatori mai conosciuti da Roma.